Appuntamento di grande valore ieri all'Università di Salerno nell'Aula Alfonso Catania del Dipartimento di Scienze Giuridiche per discutere e riflettere sui temi proposti nel libro di Rodolfo Pierri dal titolo Fit and Proper requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari edito da ECRA. Diversi relatori intervenuti tra cui oltre a docenti universitari anche il direttore generale della BCC Montepruno Michele Albanese. L'incontro ha permesso di approfondire argomenti di grande attualità e interesse per il mondo delle banche tra cui requisiti di professionalità e competenza degli esponenti bancari con un'attenzione specifica sul credito cooperativo. Dopo i saluti della professore Francesco Fasolino, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, si sono registrati i vari interventi di docenti universitari oltre che dell'autore del libro, l'avvocato Rodolfo Pierri. Il volume è stato analizzato sotto i diversi aspetti e con profondità di osservazione da esperti di importante valore, dando centralità ai requisiti necessari per essere amministratori e i sindaci degli istituti di credito. Sono emerse le criticità del modello e i punti oscuri che hanno ispirato il regolatore nella costruzione di un'architettura molto burocratica e troppo spesso sproporzionata rispetto agli obiettivi e alla tipologia delle singole banche. Tra i relatori dunque è intervenuto anche il direttore generale della BCC Montepruno, Michele Albanese, il quale ha esposto una relazione su alcuni punti dell'apprezzato lavoro dell'avvocato Pierri, sottolineando la profondità dell'analisi e l'attualità degli argomenti fortemente impattanti, soprattutto per banche come la BCC, che dalla nascita dei gruppi bancari chiedono maggiore proporzionalità e regole in linea con le specificità statutarie e la mancanza di scopo di lucro. È stato un onore per me, ha detto il direttore albanese, partecipare a questo importante convegno e poter riflettere su temi di grande attualità per il settore bancario, in particolare per il credito cooperativo. Gli illustri relatori hanno offerto un importante contributo prezioso per comprendere a fondo i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti bancari, un argomento che riguarda da vicino anche le BCC. In un momento storico in cui le nostre realtà si confrontano con nuove sfide, ha concluso il direttore albanese, l'approfondimento e il dibattito su questi temi diventano fondamentali per garantire un'evoluzione equilibrata e proporzionata alle nostre specificità.